Quercia! E' la Quercia, la contrada vincitrice del Miccio Canterino 2017. Grazie alla straordinaria interpretazione di Elayda Dani, già vincitrice di The Voice of Italy, con il brano Non Sarai Mai Sola, i bianconeri con 104 punti hanno conquistato la finalissima di sabato sera della sessantesima edizione del Festival Canoro del Paio dei Mici di Querceta. E' emozionatissima, veramente, se avete visto sono momenti indimenticabili, veramente, emozione al massimo e sono contentissima. Il calore mi aveva avvertita, ma vivendolo è tutta un'altra cosa, veramente, sono così contenta, felice di averlo vissuto, nonostante anche se vincere o no non era importante per me, però adesso vedo quanto è importante per la contrada, per la Quercia e per me è anche una cosa, un'emozione indescrivibile. L'anno scorso abbiamo fatto un secondo posto e è stato un grande risultato anche quello, anche se la nostra tendenza è quella o vinci o non vinci, però i secondi, terzi e quarti sono comunque meritevoli. Secondo posto per il Lion d'Oro con Renzo Rubino, soltanto terzo Simone Cristicchi, il favorito alla vigilia, in gara con Ponte e Bisonte per la contrada Rosso Blu, un'edizione da grandi numeri per il vicio Canterino, una finale da 1600 spettatori paganti e due serate da poco inferiori. Nel prossimo appuntamento si va dritti al palio, prima domenica di maggio, il 7, si va al palio e lì sarà un'altra battaglia organizzativa, ovviamente. La finale del vicio Canterino sarà trasmessa domenica sera alle 21 in esclusiva su Rete Versilia News.